Sorprende la moglie in macchina con un amico, prima li picchia selvaggiamente entrambi e poi una volta rientrati in casa per punirla alla violenta. È successo a Cortona nella Val di Chiana a Retina, in manette finito un 37enne accusato di atti sessuali aggravati, maltrattamento e possesso d'armi. Aveva infatti con sé una pistola penna con un colpo in canna. All'uomo sono inoltre contestati anche altri reati, lesioni, danneggiamenti, minacce, possesso di mazze da baseball, qualificate come armi impropie. Marito e moglie erano già separati da tempo in attesa di una definizione della situazione. L'uomo però non si era mai arreso alla fine della relazione ed alcune notti fa esplosa la furia cieca del marito. Il 37enne avrebbe aspettato la moglie sotto casa quando la sorpresa in auto con un amico si è accesa una violenta l'uomo ha picchiato entrambi ed infine ha trascinato per i capelli la 27enne in casa dove si è consumato l'abuso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvertiti dall'amico della donna. I militari una volta arrivati hanno raccolto la testimonianza della moglie perquisito l'abitazione dell'uomo dove sono state trovate una pistola e due mazze da baseball sono così scattate per lui le manette. Il 37enne difeso dall'avvocato Domenico Nucci avrebbe raccontato che la moglie era consenziente mentre la donna avrebbe riferito particolari definiti agghiaccianti. La 27enne aveva infatti chiesto la separazione a causa dei continui maltrattamenti a cui sarebbe stata sottoposta. Il GIP del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo ha accolto la richiesta del PM Chiara Pistolesi ed ha disposto la misura cautelare in carcere dopo aver convalidato l'arresto.